Non ci crederete mai, ma c'è stata una lite shock proprio sulla spesa, ebbene sì. Quindi, cari amici miei, bentornati su Pausa Caffè, io sono Max, per chi non mi conoscesse, parliamo della lite che c'è stata al grande fratello VIP, appunto, per causa della spesa. Ma si può litigare per la spesa. Allora, la serata nella casa va avanti a suon di polemiche, a suon di discussioni, e questa volta i due protagonisti sono stati Antonino Spinalbese e Nikita Pelison. Tra i due, si sa che da tempo non è che scorra buon sangue, ma in queste ore il motivo della lite è stato veramente banale, cioè la spesa. E ho detto tutto. Mentre i concorrenti del grande fratello sono nel giardino a discutere delle provviste, Antonino scopre che il dolcificante è stato ordinato in quantità ridotte rispetto alle sue richieste. La richiesta sarebbe stata di Nikita, che, avendo, diciamo, sforato il budget al loro concesso, avrebbe eliminato alcuni elementi dalla lista della spesa, e guarda caso quali va a eliminare quelli di Spinalbese. Quindi, da qui si sa che sarebbe nata la polemica, anche perché, se non si possono già quasi vedere, è d'obbligo. Ma Nikita avrebbe eliminato il dolcificante dalla spesa perché in casa ci sarebbero altre scorte. Sì, perché ne ha viste ben quattro confezioni. L'ex fidanzato di Belen è convinto che Nikita lo abbia però fatto apposta e, a dare manforte al vippone, ci ha pensato anche Antonella Fiordelisi, che con la modella non è che abbia un rapporto chissà quanto rosio. E ha detto come si è permessa? Ma dai, ma è una specie di provocazione. Per lei è una stupidaggine il dolcificante. È già la seconda settimana che lo toglie. E questi sono stati i commenti, commenti che possono in qualche modo stuzzicare. Nikita però, di conseguenza, è rimasta abbastanza dispiaciuta per l'accaduto e a prendere le sue parti è stato soltanto Luca Onestini. Anche perché la scorta del dolcificante sarebbe bastata, almeno fino alla prossima spesa. Parlavamo di quattro scatole, quelle quattro sarebbero bastate. E da qui sono spuntate fuori delle dichiarazioni, delle critiche, tipo eh, abbiamo tolto tante cose, se Antonino ha bisogno del dolcificante le altre persone potranno usare comunque lo zucchero oppure il miele. E c'erano altre quattro persone come me, ha detto Nikita, specificando quindi di non aver deciso tutto in autonomia, ma che anche altri coinquilini erano al corrente della cosa e che non si sono opposti, ma Antonella ribatte e dice Ehi, qua sembra che hai fatto tutto da sola, eh. Ma nonostante le scuse, Antonella e Antonino sono convinti che Nikita abbia ridotto la quantità di dolcificante proprio fatta apposta. Secondo voi? Pensate che sia un'azione fatta di proposito? Potete scriverlo qui sotto nei commenti. Nel frattempo, questo è tutto quel che è successo, io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima notizia utile, sempre qua.